Appassionati di calcio di Sport Italia, appassionati del campionato Primavera, un saluto da parte di Gabriele Schiavi, una buona giornata con le immagini live dall'antistadio Guido Tavellin di Verona. Si allarga Yeboah, Florio al limite, dentro ora per Yeboah! 1-0 Ellas! Si accende il numero 9, si accende l'Ellas Verona, un tocco morbido morbido, Yeboah che era partito da sinistra, stringe e va a prendersi il pallone. Lancio lungo intanto, deve reagire Aurelio Cagliari, lo fa con Janken, chiuso, poi attenzione arriva anche a rimorchio l'inserimento di De Sogus. Tutto pronto, parte il numero 10 del Cagliari, De Sogus, angolatissimo, 1-1 Sardo, la pareggia subito il Cagliari. Attenzione alla possibilità al limite dell'aria, tentativo in porta, 2-1 Cagliari, il gol di Cavuoti che lascia andare benissimo il tentativo. Potenza e precisione, pallone all'angolo, 2-1 Cagliari. Tentativo intanto dalla lunga distanza, ed arriva il gol del Verona, il 2-2 dell'Ellas, un gettone che si infila sotto l'incrocio dei pali per il 2-2 dell'Ellas Verona. Un grandissimo gol, quello dell'Ellas Verona con Grassi. Fischietti in bocca per l'arbitro, è game over al Tavellin. È 2-2 tra Verona e Cagliari. Grazie.